Regole più severe per la musica che anima la Movida Padovana dopo la decisione del sindaco Giordani di vietare dopo la mezzanotte nelle piazze al portario la musica diffusa anche attraverso casse wifi collegate agli smartphone. L'ordinanza firmata nelle scorse ore dal primo cittadino di Padova non convince ancora del tutto i residenti delle piazze del centro storico che da sempre chiedono maggiori controlli nelle aree più affollate della Movida. Una ordinanza fotocopia di quelle che erano in vigore già l'anno scorso. Il problema qual è? L'atto di per sé è positivo, aggiunge un ulteriore tassello a quella che è tutta la gamma delle norme, delle leggi che ci dovrebbero sulla carta tutelare da questi problemi. Ma se poi non vengono effettuati i controlli, se poi quando il cittadino che ha la gente che suona e canta sotto casa chiama le forze dell'ordine e le forze dell'ordine come è successo anche questa notte non possono uscire prima di un'ora, non hanno l'auto disponibile, a cosa serve l'ordinanza? A nulla. I residenti oltre ai controlli chiedono da tempo al comune di installare dei fonometri nelle aree della Movida per rilevare l'inquinamento acustico ma il comune al momento non intende posizionarli. Il disastro sta succedendo al portello soprattutto perché, e qui ritorniamo all'ordinanza, va bene vietare al singolo o ai gruppi di singoli di disturbare ma se ci sono 3-4 iniziative in contemporanea con la musica a tutto volume, il parco della musica, con la golena a San Massimo, col pride, con i navigli, tutti che suonano insieme, è chiaro che nelle case vengono misurati 80 decibel di rumore e l'ordinanza, come ripeto, non è che un piccolo tassello in un mare magno di una situazione che non è per niente positiva. La risposta dell'amministrazione sul tema della Movida arriva dall'assessore alla sicurezza Diego Bonavina che parla di eventi dislocati in più parti della città. Il disturbo che c'è qui nelle nostre piazze di Padova è il fatto che ci sia tantissima gente e anche da questo punto di vista abbiamo messo in piedi tutta una serie di eventi nei parchi, abbiamo cercato di delocalizzare la cosiddetta Movida e abbiamo tanti spazi a Padova dove effettivamente i ragazzi si ritrovano. Questo sta dando un po' di sollievo alle piazze storiche, quindi il Portello, Piazza dei Signori.